Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online gratuito di Player 2 Lighting e in questo video parliamo del piccolissimo drone DJI Mavic Mini e di alcuni accessori tra cui il kit di filtri prodotto dalla Freewell specificatamente per questo drone. Il DJI Mavic Mini è uscito sul mercato alla fine del 2019 a un prezzo di circa 400 euro nella versione base e a un prezzo di 500 euro nella versione Fly More Combo che include i due paraeliche, la borsetta, tre batterie e il caricabatterie più alcune parti di ricambio. Se acquistate questo drone vi consiglio di prendere la versione Fly More Combo visto che soprattutto le tre batterie sono molto comode già per iniziare e in più c'è da dire che sia la borsetta che i paraelli che sono accessori che prima o poi dobbiamo comprare e quindi è comodo avere già tutto quanto dall'inizio. Tra le caratteristiche del Mavic Mini ce ne sono alcune che messe insieme lo contraddistinguono da tutti gli altri droni della DJI attualmente sul mercato e queste caratteristiche sono l'estrema compattezza, il prezzo che è abbordabile nonostante le caratteristiche che offre e il peso minore di 250 grammi. Soprattutto quest'ultimo è un dato molto importante per renderci la vita più semplice quando vogliamo volare. Infatti con droni più pesanti è obbligatorio conseguire un patentino da pilota di droni che si ottiene superando un esame online e pagando una tassa. Per quanto riguarda il Mavic Mini invece sono solamente due le cose che dobbiamo fare per volare a norma di legge sono quelle di ottenere un'assicurazione da pilota di droni e registrare il nostro drone sul sito dFlight dove al prezzo di 6 euro possiamo ottenere un QR code da attaccare sul drone e questo QR code serve praticamente a identificare il drone con il pilota che appunto siamo noi. Sono sempre stato un po' scettico sull'acquisto di un drone perché sapevo che un drone troppo grande e scomodo da portare con me sarebbe spesso rimasto a casa mentre magari io ero a fare escursioni o ero in vacanza. Ma non è questo il caso del Mavic Mini perché è così piccolo e allo stesso tempo potente che la tentazione di portarlo nello zaino è fortissima. E infatti spesso l'ho utilizzato anche durante le pause pranzo in ufficio andando a fare una passeggiata nei siti cinematografici dove lavoro e fare qualche ripresa per allenarmi nell'utilizzo del Mavic Mini. Ogni batteria dà un'autonomia di circa 25 minuti che è davvero molto tempo considerando che nel kit Fly More Combo inoltre possiamo avere 3 batterie in totale quindi possiamo volare per un massimo di circa un'ora e mezzo e durante questo tempo oltre ad andare in giro con il nostro drone possiamo scattare fotografie e registrare video utilizzando la fotocamera da 12 megapixel. Per quanto riguarda le fotografie possiamo scattare immagini fino a 4000x3000 pixel solamente in formato JPEG. Almeno al momento con il Mavic Mini sfortunatamente non possiamo scattare immagini in file RAW quindi non abbiamo la possibilità di recuperare così tanto dettaglio in post produzione. Devo essere sincero che abituati alla qualità di reflex e mirrorless la qualità delle immagini del Mavic Mini nonostante che siano nitide mi ricordano più che altro quelle di un buon telefonino con il vantaggio chiaramente che possiamo scattare fotografie da punti di vista assolutamente unici. Nei video invece possiamo registrare filmati in formato MP4 fino a 2K di risoluzione e 30 fotogrammi al secondo. In HD invece possiamo registrare fino a 60 fotogrammi al secondo con anche gli step intermedi di 30, 25 e 24 fotogrammi al secondo. Non possiamo però registrare in 4K né utilizzare i profili logaritmici che sono quel tipo di filmati decontrastati e desaturati come questo qui che ci permettono di avere maggiore controllo in fase di correzione colore nella post produzione. Se queste sono due caratteristiche di cui non potete fare a meno nel tipo di lavoro che fate con i video chiaramente il Mavic Mini non è il drone che fa per voi. Considerato ciò però c'è da dire che possiamo fare ottimi filmati come resa di colore e nitidezza e inoltre con un aggiornamento che è uscito poco tempo fa finalmente possiamo impostare manualmente tutti i valori di esposizione e anche il bilanciamento del bianco sia per le fotografie sia per i video. E questo è un dettaglio molto importante perché ci permette di utilizzare, come vedremo tra un po', anche dei filtri fotografici. Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco è un po' scomodo ancora impostarlo perché l'opzione è un po' nascosta tra i menu e bisogna impostare precisamente i gradi Kelvin. Non ci sono delle opzioni predefinite come per esempio luci diurna o nuvoloso. Tutte queste caratteristiche messe insieme però non sarebbero abbastanza per rendere davvero interessante il Mavic Mini se non ci fosse lo stabilizzatore a tre assi sul quale è montata la videocamera. Questo stabilizzatore infatti riesce a darci dei filmati con movimenti di camera sempre molto morbidi anche quando guidiamo il drone molto velocemente o magari facciamo delle curve brusche. E inoltre il gimbal ci permette di puntare la telecamera di 90 gradi verso il basso oppure attivando una spunta speciale tra le opzioni di 20 gradi verso l'alto. Quindi oltre ai movimenti del nostro drone possiamo aggiungere un po' di scenicità alle nostre riprese muovendo la telecamera per esempio verso l'alto o verso il basso. In Europa la distanza di trasmissione massima che possiamo raggiungere è di circa 2000 metri e legalmente non possiamo alzarci a una quota maggiore di 120 metri. Sempre parlando di legislazione un altro obbligo che abbiamo è quello di volare potendo sempre vedere a occhi nudi dove si trova il nostro drone e se cominciamo a pilotare il drone guardando solo lo schermo a quel punto dobbiamo avere qualcuno vicino a noi che guarda nella realtà dove sta il drone. E questo serve sia per evitare che perdiamo il nostro drone vi assicuro che è molto facile quando ci concentriamo sullo schermo e sia di evitare che vada a sbattere su qualche ostacolo. Infatti il Mavic Mini ha dei sensori di prossimità che guardano solamente verso il basso ed evitano di fare atterraggi troppo bruschi o andare a sbattere su ostacoli dalla parte sotto. Ma non abbiamo nessun tipo di sensori nella parte frontale o nella parte posteriore quindi stare attenti che il drone non vada a sbattere contro qualche ostacolo rimane un compito nostro. Per controllare il drone dobbiamo utilizzare il radiocomando collegato a un telefono sul quale abbiamo installato l'applicazione ufficiale della DJI. A questo punto il telefono ci permette di vedere effettivamente ciò che sta vedendo la videocamera del drone, di impostare le opzioni avanzate, di controllare le mappe con le varie limitazioni a livello legislativo e infine di attivare quattro modalità di movimento automatico. Con queste modalità noi selezioniamo il soggetto principale, premiamo Start e a quel punto il drone fa tutto quanto da solo sia come movimento sia come inquadratura. E le quattro modalità sono il cerchio che gira intorno al soggetto che abbiamo selezionato e in questo caso possiamo scegliere quanto lontano effettivamente sia il cerchio dal punto di partenza in cui abbiamo messo il drone. Abbiamo la spirale che via via si allontana dal soggetto che abbiamo selezionato, il razzo che parte da terra e si spara verso l'alto però guardando verso il basso e questa è molto divertente come modalità perché crea una sorta di mappa del punto dove ci troviamo e infine l'allontanamento che guardando il soggetto che abbiamo selezionato si allontana alzandosi via via di quota. All'appello però manca una modalità che è molto amata nel mondo dei droni ovvero quella del tracking continuo. In questa modalità noi selezioniamo un soggetto, premiamo Start e a quel punto se il soggetto comincia a uscire dall'inquadratura il drone comincia a seguirlo e quindi una modalità molto divertente da utilizzare anche se per esempio ci stiamo spostando in bicicletta ma la DJI ha detto di averla tolta dal Mavic Mini perché in questo drone non abbiamo, come abbiamo visto, il sensore di prossimità davanti e dietro e quindi una modalità così automatica di movimento poteva essere pericolosa perché il drone concentrato a seguire noi poteva andare facilmente a sbattere contro qualche ostacolo. Per quanto riguarda gli accessori ho fatto una selezione dei prodotti che effettivamente dopo mesi sto ancora utilizzando e trovo comodi. Prima di tutto vi consiglio di acquistare una borsa di tipo LipoSafe, queste sono delle custodie ignifughe che sono pensate per conservare le nostre batterie quando non le utilizziamo per molto tempo o quando viaggiamo in aereo. L'idea di questo tipo di custodia è che se la batteria ioni di litio prende fuoco la confezione si scioglie sopra la batteria diminuendo il rischio di incendi. Un altro acquisto che vi consiglio di fare è quello di un po' di kit di eliche sostitutive perché queste sono molto importanti da avere quando scheggiamo anche poco le eliche del nostro drone perché basta una qualche piccola imperfezione sulle eliche e i motori sono sotto sforzo maggiormente aumentando il rischio di perdere il controllo del drone e quindi fare degli incidenti più serie. Nel corso di questo video avete probabilmente visto che tra le eliche e i motori del mio drone ho messo questi piccoli coperchi di metallo che non sono sicuro siano strettamente necessari ma danno un aspetto migliore al drone e la mia idea è che così i motori sono un po' più protetti da polvere e detriti o anche acqua. Quando riponiamo il drone all'interno della nostra borsa è comodo avere per esempio degli organizer che si possono anche stampare con una stampante 3D per tenere ordinati i caricatori, i cavi e tutti gli altri accessori più piccoli che teniamo all'interno della borsa e sempre per il drone da chiuso esistono sia dei progetti da stampare con una stampante 3D sia dei prodotti da comprare per tenere ferme le eliche ed evitare che si rompano magari nel trasporto. Nel mio caso per esempio ho stampato anche questa piccola pinzetta che si aggancia sulla parte protettiva della videocamera e su una delle scanalature del drone e tiene ferme le eliche anche nella parte sotto. E per chi è molto appassionato di fotografia e soprattutto di video può considerare l'acquisto di un kit di filtri fotografici che hanno ancora più senso adesso con il Mavic Mini visto che possiamo impostare manualmente tutti i valori di esposizione. Nel particolare questo è il kit All Day della Freewell che include 3 filtri ND ovvero ND4, ND8 ed ND16, un filtro polarizzatore e 4 filtri ibridi che sono allo stesso tempo filtri ND e filtri polarizzatori. In questo caso abbiamo ND8, ND16, ND32 ed ND64. La qualità costruttiva di questi filtri è molto buona, si attaccano sopra la videocamera del Mavic Mini utilizzando questi due piccoli piedini che si infilano nelle scanalature nella parte superiore. Una volta attaccati non ho mai avuto problemi di stabilità, sono sempre rimasti attaccati bene e infatti ad oggi sono riuscito a conservarli tutti e otto. Per quanto riguarda la qualità d'immagine, la nitidezza è buona, non ho notato problemi di nessun genere sotto questo punto di vista, ma con i filtri ibridi, quelli cioè che sono sia ND che polarizzatori, a volte quando la luce del sole colpiva la videocamera un po' in diagonale, ho notato che nella parte opposta si creavano dei piccoli flare. Chiaramente, vista la dimensione di questi filtri, è difficile risolvere problemi di questo genere, quindi dobbiamo fare un po' di prove per capire soprattutto in che situazioni questi problemi si possono creare. Per quanto riguarda quando utilizzare questi filtri, nella fotografia i filtri ND possono essere utili per aumentare il tempo di scatto e riuscire a cogliere il mosso, per esempio se stiamo fotografando un fiume o le onde del mare, mentre il polarizzatore sia per i filmati che per le fotografie ci serve a togliere i riflessi polarizzati, quindi riusciamo a ottenere una fotografia e video di vegetazione che hanno colori più saturi, anche il cielo ha un colore più saturo perché si toglie un po' quella patina di riflessi sul cielo un po' bianchiccia, e per quanto riguarda i bacini d'acqua, anche qui l'effetto è il più evidente perché togliamo tutto il riflesso che abbiamo sulla superficie dell'acqua, in questo caso quindi riusciamo a ottenere fotografie e filmati che sono molto più scenici. L'unica piccola scomodità che abbiamo nell'utilizzare filtri polarizzatori con il drone è che prima di partire ne dobbiamo regolare l'intensità ruotando il filtro, quindi dobbiamo guardare attentamente lo schermo e piano piano ruotando il filtro riusciamo a capire se il filtro sta avendo effetto oppure no. Però considerata la differenza che può fare un filtro polarizzatore in una ripresa con un cielo, piante o acqua, sicuramente è quel poco di lavoro in più che vale la pena fare. Il kit all day ha un prezzo di circa 90€, ma la Freewell offre anche dei kit più piccoli da 4 filtri, come per esempio il kit Bright Day che è quello che consiglio io, che ha un prezzo di circa 55€ e include i 4 filtri ibridi che partono da ND8 e arrivano fino a ND64. In definitiva se si può fare a meno dei filmati in 4K e delle fotografie in RAW, il Mavic Mini è un grande piccolo drone potente e relativamente economico e sicuramente in futuro vedrete molte riprese qui su Player 2 Lighting girate con questo drone e penso che farò ancora più escursioni in giro per le montagne per poterlo sfruttare al meglio. Un'alternativa un po' più costosa di drone che potreste considerare invece è il nuovo Mavic Air 2 che batte il Mavic Mini su quasi tutti gli aspetti, tranne che è un po' più grande e un po' più pesante e quindi vi richiede il patentino. Come sempre per dubbi e suggerimenti potete iscrivermi su carlochiocciolaplayer2.com, potete seguire Player 2 Lighting su Twitter e Instagram a chiocciolaplayer2 e su Facebook a facebook.com slash p2lighting. E mi raccomando visitate il sito di Player 2 Lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com slash forum. Grazie per aver visto questo episodio, e ci vediamo al prossimo! ...